Bella ragazzi, eccoci qua, venerdì, video del pronostici, è un po' ridotto perché ci saranno solo 8 partite, non giocherà appunto la Lazio, la Juve ha già giocato, ma ci sono comunque 8 partite, dei match comunque interessanti, si parte già stasera con Fiorentina-Roma che è uno dei match più interessanti, c'è Atalanta-Milan, c'è l'Inter comunque con molte defezioni in casa contro il Genoa, quindi ecco, ci sono dei match comunque importanti, i fini della classifica, sia della salvezza, sia appunto delle parti alte, domenica ci sarà la Supercoppa, ho fatto un video ieri in preparazione alla Supercoppa, ve lo lascio in alto a destra nelle schede se ancora non l'aveste visto, e signori, partiamo subito con i pronostici, allora, stasera, venerdì, quindi ore 20.45, Fiorentina-Roma, la Fiorentina comunque non vince da un po', è un po' in crisi, però ha pareggiato con l'Inter, ha fatto anche un'ottima partita fra Alfranchi con golasso di Vlaovic nel finale, la Roma viene da una vittoria non esaltante, ma comunque importante con la Spal che dà continuità, quindi sicuramente parte favorita la Roma, ma io penso che la Fiorentina possa anche strappare un altro pareggio, quindi io vi consiglio gol, quotato 1.60, è anche una quota molto interessante. Poi passiamo alle partite di domani, di sabato, ore 15, Udinese-Cagliari, allora, l'Udinese in una situazione di classifica che se non vince o comunque non fa almeno un punto, si trova praticamente in zona proprio retrocessione nelle ultime tre, nelle ultime quattro. Il Cagliari deve ripartire perché ha fatto una bella prestazione contro Di Noi e contro la Lazio, però è uscita appunto dalla Sardegna Arena con zero punti, quindi appunto sicuramente parte favorito il Cagliari, però io non mi sento di dare un risultato perché è una partita da tripla secondo me, quindi io vi consiglio over 2.5, secondo me è una partita ricca di gol, almeno tre gol ci saranno, e la quota è molto interessante, 1.85. Poi sempre sabato ore 18 Inter e Genoa, io qua vi consiglio l'1 a 1.35, è bassissimo, nonostante l'Inter abbia appunto alcune defezioni, però il Genoa appunto è forse la squadra in questo momento più scarsa o meno in forma, se volete metterla su questo piano del campionato italiano, quindi secondo me l'Inter magari non con un risultato ampissimo, però io penso che vincerà 2 a 0, 2 a 1, secondo me, quindi 1 a 1.35. Poi sempre sabato c'è un grande veramente posticipo, Torino-Spal, quindi il Torino che viene dalla vittoria con la Fiorentina, dal pareggio col Verona, ma vinceva 3 a 0, quindi sono due punti persi, la Spal è ultima in classifica, deve fare punti, io vi consiglio qua gol più under 3.5, quindi un gol per entrambe e però meno di 3 gole, la quota è veramente interessantissima, 3.45. Poi Atalanta-Milan, passiamo alle partite di domenica, questo è il lunch match della mezza, Atalanta-Milan, io qua vi dico un risultato sorpresa, X2, secondo me il Milan uscirà dal Ghewi Stadium, ex Atleti Azzurri d'Italia, con un risultato positivo, la vittoria è difficile, sta per una vittoria a Bergamo, c'erano già riusciti l'anno scorso con doppietta di Piontek, chissà che Piontek possa ritrovare il gol proprio con l'Atalanta, quindi io dico X2, la quota è di 1.95. Poi passiamo alle due partite delle ore 15, quindi una domenica un po' povera, perché poi sappiamo che alle 6 meno un quarto ci sarà la Supercoppa. Comunque alle 15 ci sono due sconti salvezza, Lecce-Bologna, Bologna che si è un po' ripreso appunto nelle ultime giornate, ha 19 punti mi pare, quindi in una zona abbastanza tranquilla, Lecce ha 15 punti, quindi deve fare punti al Via del Mare, insegue ancora la prima vittoria in casa, però secondo me non la otterrà, io comunque vi vado a consigliare gol, entrambe le squadre sienano, la quota è molto bassa, 1.47, quindi sintomo che appunto Lecce, nonostante non vinca in casa quasi mai, un gol lo fa sempre, Bologna sono sicuro che bucherà appunto la difesa del Lecce. Poi sempre alle ore 15 Parma-Brescia, io qua vi dico un risultato fisso, difficile, ma me lo sento X ragazzi, quotato a 3.40, quindi la quota è molto alta, poi se appunto non ve lo sentite potete mettere, io vi consiglio più X2 che 1X, perché secondo me il Brescia ha un punto, almeno lo porterà a casa dal Tardini, il Parma è una squadra più da trasferte, poi il Parma, ripeto, è una squadra tranquilla, non può ambire l'Europa, né può retrocedere, quindi secondo me appunto io, il Brescia ha almeno un pari, lo porterà a casa. Poi invece domenica, ore 20.45, quindi dopo la nostra Supercoppa, di cui non la metto nei pronostici, non faccio i pronostici, perché questi sono pronostici, scusate, della Serie A, c'è Sassuolo-Napoli, alle 9.45, io qua è la partita che sono più sicuro, 2, 2, perché il Sassuolo ha vinto anche il recupero, quindi anche il Sassuolo è in una zona abbastanza tranquilla, mi pare, abbia 19 punti, poi il Napoli, secondo me, gioca meglio in trasferta adesso, perché a San Paolo ha più pressioni, poi una squadra in generale più da contropiede, poi Gattuso, una la dovrà vincere, quindi io dico 2, la quota è anche comunque interessante, 1.65, e ragazzi, la vincita totale è molto interessante, perché con soli 3 euro è andata a vincere 778 euro, con 5,13 praticamente, quindi con 10 è andata a vincere più di 2.000, quasi 3.000, e io appunto mi riferisco a SNAI, ok, là il mio centro di riferimento è SNAI, però più o meno alla fine le quote sono tutte più o meno uguali. Quindi ragazzi, io vi invito a lasciare 250 like per continuare la serie dei pronostici, perché so che vi piace, su Instagram me la richiedete, appunto seguitemi su Instagram, primo link in descrizione, però io devo vedere il vostro supporto, ok? Quindi 250 like minimo per continuare la serie. Signori, ci vediamo domani con un video speciale, non sarà un po' spartita, ma sarà un video sempre verso per parlare della Supercoppa con un ospite, probabilmente, quindi niente ragazzi, io vi saluto, bello!